buongiorno ragazzi buongiorno iniziamo questo video dicendo pog basta pog basta poll porca troia allora cosa vuoi fare tu alla juventus sei venuto per rubarti i soldi o sei venuto perché volevi dare una svolta alla juventus e volevi fare volevi farci fare il salto di qualità poll 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 che cazzo sei venuto a fare la juventus ma quanto deve essere la pazienza degli juventini quanto deve essere io ho criticato nei video precedenti in questi mesi il grande angle di maria ma solamente perché avevo visto in lui poco impegno scarso impegno ma è una cosa plausibile è giustificabile questa cosa è una cosa perché doveva lui giocare il mondiale e quindi era concentrato al mondiale l'hanno vinto ma poi ora quando è finito tutto angle di maria sta facendo il professionista sta facendo il professionista sta facendo il suo dovere spero che duri fisicamente il più possibile e però sta facendo il suo dovere sta giocando bene sta cominciando a fare le rabona sta cominciando a fare le diagonali sta cominciando a segnare a far segnare gli altri quindi io lo perdono di maria sta facendo il suo dovere ma tu che cazzo devi fare sei venuto sei venuto in estate sei venuto in estate hai fatto di testa tua mi voglio operare quando dico io se io fossi stato il presidente ti avrei obbligato a operarti perché i soldi li cacciavo io i soldi li dovevo uscire io e invece ti hanno fatto fare in quei dirigenti che se ne sono andati quello che hai voluto ti sei operato quando hai voluto tu e quindi non solo hai esaltato settembre ottobre novembre dicembre sei stato un coglione esaltato anche il mondiale ma questo noi italiani non ce ne può fregare un cazzo se tu non hai fatto il mondiale con la Francia quindi hai fatto quello che hai voluto e quindi per colpa tua hai esaltato tutta la preparazione tutti compreso Allegri nelle conferenze stampe avevano detto che saresti tornato a gennaio siamo a gennaio gennaio è finito ogni settimana in ogni conferenza stampa è pronto è pronto è pronto ora che dovevi essere pronto ieri a febbraio che siamo arrivati già a febbraio non ti abbiamo visto in campo cioè la scorsa partita non hai fatto neanche 10 minuti dovevi presentarti con la Lazio hai avuto praticamente un dolore qua non so che cazzo hai avuto un problema muscolare ma insomma ma è normale secondo te questa cosa è normale questa cosa non è normale non è normale la Juventus ti paga 8 milioni di euro all'anno 8 8 e tu devi fare il tuo dovere ti hanno fatto un contratto di 4 anni il primo anno è andata a puttane oramai lo lasciamo così mancano solamente questi ultimi mesi febbraio marzo aprile e maggio questi altri 4 mesi quindi hai altri 3 anni di contratto lo vuoi fare il tuo dovere da professionista o non lo vuoi fare o se no a giugno con questa dirigenza nuova perché non sono i dirigenti vecchi questi qua ti fanno la recessione del contratto tu pensi che sei qua a rubare soldi per 4 anni senza giocare neanche una partita o chiuso capitolo io ti perdonerò solamente come ho fatto con Di Maria che sta giocando bene ti perdonerò solamente se tu porti alla Juventus grazie al tuo contributo almeno un trofeo almeno uno o mi porti l'Europa League che comunque è difficilissimo perché ci sono squadre come Barcellona e Arsenal e quindi io sono con i piedi per terra so benissimo che comunque è molto difficile conquistare questo trofeo oppure mi porti la Coppa Italia oppure mi porti la Coppa Italia Paul ti perdono solo così ma se tu non porti a casa a Torino la Coppa Italia io ti prenderò sempre per mercenario è un barassita che si sta rubando i soldi ho detto tutto chiuso capitolo stasera dobbiamo vincere stasera dobbiamo vincere contro la Lazio dobbiamo vincere a tutti i costi perché con la Coppa Italia quest'anno è abbordabilissimo se dovessimo battere la Lazio che non sarà una partita facile avremo poi lo scontro con i prescritti dell'Inter e là ci sarà lo scontro in semifinale e andate e ritorno e là ce la giocheremo quella sarà la vera finale quella sarà la vera finale perché in base alle altre partite come sono andate praticamente la finalista sarà una fra Fiorentina e Cremonesi quindi chi morà dalla favola chi passerà poi più in là fra Juventus e Inter si porterà alla Coppa Italia e io non voglio che sta cazzo di Coppa Italia vada di nuovo all'Inter in due anni quest'anno vinto la Coppa Italia e hanno vinto due Supercoppa e una Coppa Italia basta l'anno scorso la Coppa Italia l'abbiamo persa in finale contro l'Inter ma io sono onesto l'Inter in quella finale era molto più forte di noi e ci ha sul classato 4-2 supplementari ma ci ha rotto il culo sia in Supercoppa 2-1 supplementari sia 4-2 in Coppa Italia ma quest'anno se dovessimo vincere la stessa serie contro la Lazio voglio la rivincita voglio la vendetta contro l'Inter dobbiamo buttare fuori e col doppio scontro è possibile perché anche se dovessi sbagliare una partita la seconda partita la potremmo indovinare quindi nel doppio scontro possiamo giocarcela e possiamo vincere la Coppa Italia quindi Pol portami a casa la Coppa Italia la Coppa UEFA e io ti perdono fammi vedere che questi 8 milioni di euro che ti stanno dando sono meritati per il momento non sono meritati stai rubando i soldi alla società e fai anche il vacanziere e ci vai a prendere per il culo prendi per il culo i tifosi facendo il pagliaccio cioè a tutti è sempre Forza UE grazie a tutti